Enton Gill è autore di Codex Templare. L'ultimo segreto dei cavalieri templari sta per essere rivelato. Istanbul, un gruppo di archeologi apre la tomba di Enrico Dandolo. Dogge di Venezia, in cerca di documenti che facciano luce su una nuova ipotesi. Un presunto legame tra questo misterioso personaggio, protagonista della Quarta Crociata, e il leggendario ordine dei cavalieri templari. Ma pochi giorni dopo tutta la squadra di archeologi sparisce senza lasciare traccia. Tutto ciò che rimane è uno strano oggetto, una chiave, con inciso un oscuro codice. Toccherà a due investigatori dell'Interpol, Jack Marlow e Laura Graves, studiare il caso e cercare di dirimere un mistero che risale a un'epoca lontanissima e a un terribile evento che segna per sempre il destino di Costantinopoli. Storia, azione, codici da decifrare, cospirazioni e antichi segreti in un thriller mozzafiato.